Il 10 marzo prenderà il via la rilevazione campionaria nell'ambito del censimento delle istituzioni non profit. Si tratta di un'iniziativa di grande importanza, sono 110.000 le unità statistiche che andiamo a rilevare sul campo ed è il triplo rispetto ai valori che erano stati impiegati in occasioni precedenti. Le istituzioni non profit svolgono, come ben sappiamo, un ruolo che è fondamentale per l'assistenza, per la coesione, per lo sviluppo e per gli aiuti all'interno della nostra società. Avremo l'occasione di raccogliere delle informazioni particolarmente interessanti e originali sulla loro attività, le loro caratteristiche, informazioni che renderemo disponibili in maniera estremamente tempestiva e che aiuteranno a valutare il contributo che proviene dal non profit e anche a intervenire con forme di assistenza, di collaborazione, di interazione tra la società e queste fondamentali istituzioni del nostro tempo. Ringrazio naturalmente tutti coloro che verranno coinvolti in questa iniziativa, invitandoli a partecipare perché stiamo lavorando nell'interesse della conoscenza, una conoscenza che va a favore di tutta la società. Grazie.